La Torino-Lione non serve più, le priorità sono altre, dice il leader del Movimento 5 Stelle a Ivrea, ma la Lega ai gazebi rilancia, l'opera è confermata, la faremo. Migliaia di notavi in marcia da Rosta a Davigliana per rilanciare le ragioni contro l'alta velocità. I manifestanti chiedono di fermare progetto e lavori e dicono nessun governo è amico. Luigi Di Maio a Ivrea annuncia che il futuro governo parlerà con la Francia per bloccare la TAV. La Lega ai gazebo dice invece che si andrà avanti. I militanti 5 Stelle dicono sì all'alleanza. Sentiamo Roberto Rotondo. Potete fare un passo indietro per favore, l'ho fatto pure io. Scherza con i giornalisti Luigi Di Maio, né lui né Salvini svelano oggi chi sarà il premier, ma se l'accordo, anzi il contratto tra il Movimento 5 Stelle e la Lega è ufficialmente chiuso, l'interpretazione dei suoi contenuti appare diversa, quantomeno sulla TAV Torino-Lione. A Ivrea il capo politico dei 5 Stelle lo dice chiaro. C'è il blocco di un'opera che secondo noi è inutile. Andremo a parlare con la Francia e gli diremo guardate la Torino-Lione poteva valere 30 anni fa, ma non più oggi, non serve più. Ai gazebo leghisti come quello di Torino, dove i militanti votano fino a domenica sera il contratto sul futuro governo, la TAV pare invece intoccabile. Chiediamo ai torinesi appunto la fiducia per poter iniziare questo accordo di governo, sapendo che tutte le parti importanti sono state accettate, dalla TAV che non è più messa in discussione, agli sbarchi, alla chiusura dei campi nomadi, alla pace fiscale, alla flag tax. Nel centro-destra c'è fermento, Giorgia Meloni attacca Di Maio, surreali le sue parole sulla TAV, scrive su Facebook. Tuttavia tra i militanti di Lega e 5 Stelle prevale l'ottimismo. Stiamo tifando per loro e il programma mi sembra buono. Di Maio, cosa gli dici? Che prosegua così che va bene. Le dichiarazioni di Di Maio sull'inutilità dell'alta velocità ferroviaria Torino-Lione hanno rinvigorito il movimento Notav, che oggi è tornato a manifestare contro l'opera in corteo da Rosta ad Avigliana e lì per noi c'era Marzia De Giure. Non esistono governi amici. Si è chiuso con questa affermazione di Alberto Perino, leader storico del movimento Notav e il corteo in bassa Valsusa, hanno vincoli che noi non abbiamo, ha detto. E infatti ha marciato da Rosta ad Avigliana, mosso da più anime il popolo Notav. C'erano la sinistra europea, i cattolici Notav, gli anarchici, bandiere della Palestina e sindaci di comuni piemontesi e francesi. Ma per tutti la frase «Ci impegniamo a ridiscutere il progetto» nel contratto di governo Movimento 5 Stelle e Lega deve significare lo stop ai lavori. Anche se il commissario di governo Foglietta ha parlato di 2 miliardi di euro da restituire in caso di marcia indietro e anche se ha tuonato il mondo industriale del Piemonte l'Italia rinuncerebbe così a 5,5 miliardi di appalti in assegnazione entro il 2019 che significano posti di lavoro. Ma qui sta il punto perché a muovere questi migliaia di persone è una visione diversa di gestione dell'economia e del territorio. Il costo al chilometro dell'Italia sarebbe 5 volte il costo del chilometro francese e questa è un'assimmetria, è un accordo ingiusto che l'Italia ha accettato, non sappiamo bene nemmeno il perché e che dobbiamo assolutamente ribaltare. Al momento meno dell'1% del valore degli appalti per i lavori definitivi da Torino-Lione sono stati assegnati quindi non sussistono impegni né ne sussistono con l'Unione Europea né con la Francia sulla base dei documenti ufficiali che regolamentano gli accordi. Sono soldi che possiamo risparmiare. E che il popolo Notav propone di usare per opere utili come trasporto pubblico e mobilità sostenibile anziché per una linea veloce ribadisce movimento di trasporto merci che dalla Valsusa non passano più.